Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica. Vorrei in questo tutorial mostrarvi Meme Generator, una applicazione che ci permette di creare dei meme, come diciamo quasi tutti in italiano, dei meme, ma la pronuncia corretta è meme. Spero di farcela in non meno di 10 minuti. Bene, questa è l'interfaccia che poi vedremo di Meme Generator, ma naturalmente la prima domanda che dobbiamo porci è che cosa sia un meme. Il termine meme è stato coniato da Richard Dawkins, un biologo, che in un suo libro del 1976, il gene egoista, ha coniato questo termine in analogia con quello di gene, dalla parola greca mimema, che significa imitazione, diffusione per imitazione in questo caso, dal greco, eliminando la prima sillaba, mim in inglese, meme. possiamo dire in italiano, anche se, ripeto, la pronuncia corretta è mim, perché è una parola che è entrata nell'uso in inglese. Che cos'è il meme? Il meme doveva servire a spiegare l'evoluzione culturale, e quindi era l'unità culturale minima, che si riproduce per replicazione e autopropagazione, passando da una mente all'altra, o da un supporto comunque di memoria all'altro, che può essere la mente umana, ma può essere anche del materiale, per esempio la carta, e così via. Questo serviva per spiegare analogamente alla biologia, analogamente, chiedo scusa, all'evoluzione biologica, l'evoluzione culturale, cioè la dinamica della cultura, tanto che è stata proposta anche la memetica scienza, che molti non considerano comunque una scienza. Realizzerò una videoguida, troverete il link in una scheda qui in alto a destra, in cui cercherò di approfondire il concetto di meme. Ma a noi interessa l'internet meme, cioè la straordinaria diffusione che queste immagini, perché questi sono i meme, delle macroimmagini, come anche vengono chiamate, cioè delle immagini, come delle scritte, degli internet meme, che sono qualcosa di leggermente diverso, anche se traggono origine, dalla teoria, della memetica di Dawkins. Come li potremmo definire? In parole semplici, sono i tormentoni. Sono i tormentoni che si diffondono sul web, in modo virale, ma anche in modo spontaneo, soprattutto sui social, ma anche via mail. Famosi sono i Chuck Norris fact. Chuck Norris è uno dei duri per eccellenza di Hollywood, famoso per la serie Walker, Texas Ranger. I fatti di Chuck Norris, sono esagerazioni che fanno leva su questo stereotipo dell'uomo macio. Per esempio, qui, Chuck Norris non ha il tasto Escape nel suo computer, nella tastiera del suo computer, che il tasto Escape vuol dire fuggire. E Chuck Norris giammai fuggirebbe. Come avrete capito, i meme di internet sono idee, spesso comiche, eroniche, polemiche, che si propagano in modo estremamente rapido, per imitazione sui social, media e comunque in internet, e prendono la forma di immagini, di macroimmagini, come in questo caso, di GIF o di video, che si diffondono, dicevo, viralmente, in modo virale. Esiste un'ampia tipologia di internet meme, che sono legati a personaggi, dello spettacolo, della politica, dell'animazione, dell'immaginario collettivo, e via dicendo. Vediamo adesso che cos'è Meme Generator. Meme Generator è un servizio freemium, ma la versione free presenta tutte le funzionalità al completo, e quindi si può usare tranquillamente, e permette di creare appunto dei meme, ma permette anche di creare dei grafici, delle GIF, i cosiddetti meme demotivazionali, che poi vedremo, sono molto carini anche questi. E' semplice da utilizzare, e si realizzano delle immagini molto rapidamente. E' scritto in HTML5, e quindi è molto leggero, e può essere usato senza bisogno, sia dal PC desktop, ovviamente, quindi un'applicazione web, sia direttamente dai dispositivi mobili, senza bisogno di app. La facilità è dovuta a che cosa? Al fatto che, come vi ho detto, ci sono varie tipologie di meme di internet, e quindi abbiamo vari modelli che corrispondono alle varie tipologie, vuoti, cioè noi dobbiamo inserire il testo, l'immagine e il modello è sempre la stessa. Poi ne vedremo alcuni esempi. Oppure possiamo anche caricare delle immagini nostre personalizzate. Interessante questo dal punto di vista didattico. Ci sono ampie possibilità di personalizzazione, come vedremo, colore, font, posizione del testo, eccetera, eccetera. La versione free. La versione free presenta sia la pubblicità, ma non è un grosso problema, che è in filigrana il logo. Non dà fastidio, è in basso a destra. Si può quindi tranquillamente usare la versione free. Se andiamo a vedere, perché è un'informazione importante, ecco, vediamo, pubblicità, filigrana, e piuttosto questo può creare qualche problema, e cioè, mentre nella versione pro non abbiamo pubblicità, non abbiamo in filigrana il logo, e abbiamo la possibilità di pubblicare e mantenere online per un lungo periodo di tempo, fino a quando il nostro account dura, il nostro meme, invece nella versione free lo possiamo fare. Questo accade soltanto se il nostro meme prende molti voti o ha molte visualizzazioni. Altrimenti, cosa fare? Scaricarlo nel nostro PC per poterlo usare quanto vogliamo e conservarlo per quanto tempo vogliamo. Prima di vedere come funziona Meme Generator, vediamo qualche esempio di tipo di meme. Questi sono i Willy Wonka Meme. Willy Wonka è il personaggio della fabbrica di cioccolato, un film che è stato girato, sì, ultimamente da Tim Burton con Johnny Depp, ma qui, o Depp, non ricordo, qui Jen Wilder, invece, negli anni 70, interpreta la parte di Willy Wonka. Questa è un'immagine molto famosa che viene utilizzata come immagine per creare i meme cosiddetti di Willy Wonka. E quando dici che gli italiani sono stupidi perché non scendono in piazza a protestare, caspita, tu devi essere proprio rivoluzionario da dietro a quella tastiera. Vedete che i formati cambiano da un modello all'altro. Qui abbiamo l'immagine di Jen Wilder e due testi, uno superiore e uno inferiore. In genere si definisce anche il tipo di font e tutto il resto, che so, impact, sanserie, conserie, eccetera. Oppure, ah, è così, tu non hai tempo per lavorare, dimmi di quando sei arrivato a livello 261 di Candy Crush Saga. Ecco, chiaramente, sono ironici, sono polemici, sono presi in giro, e così via. Un'altra tipologia sono i LOLcat, LOLcat. LOL vuol dire ridere in modo rumoroso, quindi i gatti. Anche qui, vedete, abbiamo dei formati che possono variare. In questo caso abbiamo uno spazio superiore e inferiore dove c'è il testo. E poi abbiamo l'immagine di gatti, ma possono essere anche altri animali o esseri umani. E' una battuta. Quando le chiedi cosa c'è, che non va, e lei ti risponde niente. Ma passa il resto della giornata a guardarti così. Oppure, sì, potrei ucciderla, ma mi serve per aprire le scatolette. Ecco, anche qui vedete come funzionano. A volte sono molto sgrammaticati, questi sui gatti appositamente sgrammaticati. E in genere presentano animali, gacomi, gatti, insomma, in situazioni molto tenere, molto carine, molto particolari, o addirittura, o per esempio comiche, come in questi casi, eccetera. Nella videoguida sui meme che devo ancora realizzare, che linkerò anche in questo video, mostrerò altre tipologie, parlerò anche dei meme demotivazionali, ma adesso andiamo a vedere come funziona Meme Generator. Io mi sono registrato email e password. Questo, vedete, è il mio profilo. Queste sono le immagini che ho realizzato. Ma, vedete, se devo creare un meme, vado su Create, in alto a sinistra, menu a discesa, posso creare un meme con una, appunto, didascalia, oppure una GIF, oppure un grafico, oppure anche, come vi dicevo prima, un meme demotivazionale, che è un po' una presa in giro del trend motivazionale, quindi corsi, libri, su come motivarsi, su come aver successo nella vita, che, insomma, negli Stati Uniti, ma anche qui, sono molto di moda. Bene, andiamo a vedere il meme. Ecco, io qui ho già un'immagine, un modello caricato, ma, come vedete, posso sceglierne uno da questi. Ce ne sono tanti. che hanno un nome, il più interessante uomo, oppure, vediamo se trovo qualcosa, se c'è Willy Wonka, queste sono quelle facce, vedete, c'è il Willy Wonka meme, c'è Yoda, prendiamone uno qualsiasi, per esempio Yoda, Yoda, uno Star Wars meme, come vedete, ho due spazi, in questo caso, sono solo due, ma a seconda del meme, possono essere anche di più, per esempio, in quelli sul cervello, l'espansione del cervello, sono 4 o 5, e qui posso inserire il testo, ma prima di inserire il testo, vediamo che cosa posso fare, bene, posso ruotare l'immagine, potrebbe servirmi, posso aggiungere uno spazio, in questo caso, posso aggiungere uno spazio solo in alto, oppure uno spazio sia in alto che in basso, vedete, oppure, adesso li tolgo, nessuno spazio, bene, cosa posso fare, anche posso aggiungere degli elementi grafici, vedete, li posso aggiungere da qui, oppure caricandoli con add image, adesso non ne aggiungerò, e posso disegnare, selezionando un colore, per esempio, non so, il bianco, posso disegnare, scrivere qualcosa, più, meno, ciao, e così via, in questo caso, cancello, e stop, smetto di disegnare, o posso caricare un'immagine, vedremo dopo un esempio, a questo punto, supponiamo che io voglia scrivere il testo, finalmente, bene, qui scriviamo un testo qualsiasi, ciao caro, e vedete, che il testo compare, cosa posso fare, due cose, posso cambiare il colore del testo, per esempio, giallo, l'ombreggiatura, posso fare, che so, blu, molto brutto, posso fare ancora che cosa, font settings, vedete, qui posso scegliere, questo è un bell'impact, sanserie, posso scegliere un altro, per esempio, verdana, ombreggiare, e non ombreggiare, tutto maiuscolo, o tutto minuscolo, bold, quindi grassetto, italic, posso anche modificare, vedete, il size del font, la grandezza del font, decidere il raggio dell'ombreggiatura, di più, di meno, 9, 10, 7, 8, l'allineamento, verticare, orizzontale, e verticale, ecco qua, bene, e poi, posso anche decidere, applicare queste, queste configurazioni, a tutti i miei, a questo punto, procedo, con, vedete, qui, ovviamente, abbiamo l'altra scritta, adesso, tralascio, posso pubblicarlo, chiedo scusa, posso non pubblicarlo, quindi rimane privato, e me lo devo scaricare, e salvare nel mio computer, oppure posso crearlo, anonimo, oppure, posso rimuovere, il watermark, cioè il logo, diciamo, in questo caso, dovrò pagare, quanto, vi ho già illustrato, la differenza tra FII e ProBasic, 2,95 al mese, bene, proviamo a generare, il nostro meme, eccolo qua, scarico l'immagine, e il gioco è fatto, vedete che ho scaricato, l'immagine sul mio PC, qui c'è il logo, vedete, a questo punto la salvo, e la utilizzo, tutte le volte che voglio, supponiamo, che non mi piaccia, l'immagine che mi viene proposta, e nemmeno queste, posso andare a cercare, altri modelli, ce ne sono più di mille, vedete, clicco qui, sono ordinati, in varie pagine, posso andare avanti, ne trovo tanti, andiamo avanti, tutti i personaggi famosi, del cinema, dell'animazione, dei fumetti, questo è il coso, di Tolkien, e così via, alla fine, troverò qualcosa, che fa per me, torniamo adesso, un attimo indietro, e vediamo, che uso possiamo fare, di questo strumento, naturalmente, non posso pensare, di incentrare, tutta un'attività didattica, su un meme, però, i meme, possono essere, un'integrazione, per esempio, possono servire, per esprimere, un'idea, una mia osservazione, un mio commento, su che cosa, ma non so, su un problema, d'attualità, su una tematica interdisciplinare, su un tema, anche scottante, che sull'immigrazione, oppure, una mia idea, su un argomento disciplinare, che è stato affrontato, cosa ne penso io, della filosofia di Tizio, della poesia di Caio, o, della relatività di Sempronio, anzi, di Einstein, può anche servire per esprimere, illustrare, in modo magari anche comico, un'opinione, o una tesi di qualcuno, su qualcosa, oppure, può essere una citazione, un modo di riportare una citazione, corredata ad un altro testo, che ne metta in evidenza, alcune caratteristiche, oppure, può servire per polemizzare, posso, per esempio, creare un meme, con un personaggio, storico, filosofico, letterario, che so, Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, il già citato Einstein, Platone, eccetera, e fargli dire qualcosa, su un argomento, magari, di attualità, o su un argomento attinente, magari, non del suo periodo storico, ma attinente, comunque, all'attualità, oppure, può essere un oggetto, può essere, che so, la cellula, a conclusione di un'attività, quindi, dico ai ragazzi, o ai ragazzini, costruite un meme, con una cellula, corredatelo da una battuta, che illustri, che so, il metabolismo della cellula, può essere, anche, un modo, di esercitare, insomma, la fantasia, su un certo argomento, vediamo, come si può fare, in questo caso, posso cercare, un'immagine, caricarla, dal mio computer, o vedete, incollare qui, l'URL, carichiamola, dal mio computer, andiamo a vedere, per esempio, su immagini, ecco, questa bellina, di Einstein, che ho preparato, seleziono, sì, carichiamo tutta, l'immagine, vedete, posso anche, decidere, di restringere, in questo caso, mi va bene tutta, e posso anche, consentire ad altri, di utilizzare, come modello, la mia immagine, carichiamo, ed ecco qui, non so, potrei scrivere, adesso, qualche battuta, sui terrapiattisti, Einstein, che fa la lingua, dunque, la terra è piatta, stile Willy Wonka, dimmi com'è, il tuo esercefalogramma, sottointeso, è piatto anche lui, oppure, proprio come il tuo, encefalogramma, ecco, una cosa del genere, oppure, anziché Einstein, potrebbe essere, che so, Kant, carica un'immagine, in questo caso, incolliamo l'URL, speriamo che funzioni, si funziona, questa è un'immagine, abbastanza famosa, di Kant, carico l'immagine, e qui potrei, aggiungere uno spazio, perché effettivamente, ci vuole, e qui potrebbe essere qualcosa, non hai capito, la percezione trascendentale, e qui un commento, ironico, una battuta, bene, spero, che vi possa essere, di ispirazione, vi possa essere utile, questo video tutorial, ripeto, pubblicherò anche, una videoguida, al meme, cos'è il meme, come si costruiscono i meme, quali tipologie di meme esistono, vi saluto, e vi ringrazio, per avermi ascoltato, del mio, di ispirazione,